La Francia è alla ricerca di alleati disposti a inviare truppe in Ucraina, lo segnala la rivista americana Politico che commenta la visita in Lituania del capo del Ministero degli Esteri francese. La pubblicazione ricorda che, dopo le dichiarazioni secondo cui non escludeva l'invio di truppe nato in Ucraina, il presidente Macron è stato colpito da una raffica di critiche, anche nella stessa Francia. Dalla Polonia però arrivano dichiarazioni contrastanti. Il capo del Ministero della Difesa polacco ha detto che Varsavia non intendeva inviare truppe, ma il giorno prima il ministro degli Esteri Sikorsky aveva annunciato che la presenza delle forze Nato in Ucraina non era qualcosa di inimmaginabile. Il primo ministro slovacco ha affermato che il piano dell'Occidente in Ucraina è stato un fallimento. Secondo il premier Robert Fizzo, la cosa più importante da fare ora è instaurare un dialogo. È meglio discutere per dieci anni al tavolo delle trattative piuttosto che lasciare che russi e ucraini si uccidano a vicenda per dieci anni. Ma la domanda è chi vuole questo? Mi sembra, continua Fizzo, che l'Occidente sia estremamente favorevole a questa guerra. Questo messaggio è emerso nel 2022 quando alcuni paesi occidentali hanno dissuasso l'Ucraina dal firmare un accordo di pace con la Russia, affermando literalmente che utilizzeremo la guerra in Ucraina per indebolire la Russia, forniremo assistenza militare ed economica all'Ucraina e imporremo sanzioni per indebolire la Russia. Non funziona, ha concluso il premier slovacco. Nuovo attacco sulla popolazione civile della città di Donetsk. Un asilo e tre scuole sono state prese di mira. Nelle vicinanze non c'era nessuna installazione militare. Le autorità di Donetsk confermano che due persone sono rimaste ferite. Negli Stati Uniti la stampa scrive che Biden è sospettato di uso di anfetamine durante il suo discorso al Congresso. Il suo comportamento e il suo modo di parlare sono stati analizzati in dettaglio dalla psichiatra forense Carol Lieberman in una intervista al Washington Times. La dottoressa dice, Joe Biden di solito parla lentamente e in modo esitante, ma nel suo discorso al Congresso si è mostrato irascibile e arrabbiato e anche ha parlato a una grande velocità, tutto il che fa pensare che sia stato aiutato dalla psicofarmacologia. A Tel Aviv migliaia di manifestanti davanti alla residenza del primo ministro Netanyahu hanno chiesto le sue dimissioni. Le persone riunite in piazza non sono d'accordo con la politica del primo ministro. Ritengono che le autorità non stiano facendo abbastanza per liberare gli ostaggi. La ormai tradizionale protesta di ogni sabato si è conclusa con una dura repressione da parte della polizia. Il primo ministro polacco non è riuscito a raggiungere un accordo con gli agricoltori che chiedevano di sospendere la fornitura di prodotti dall'Ucraina. L'incontro tra il primo ministro Donald Tusk e i rappresentanti degli agricoltori si è concluso con un completo fallimento. Questo incontro si è svolto dopo due mesi di proteste nelle quali gli agricoltori chiedono di limitare o vietare completamente l'importazione di prodotti agricoli a basso costo dall'Ucraina. In sostanza il primo ministro ha detto che ha le mani legate e che non può fare nulla. In risposta gli agricoltori hanno detto che le proteste continueranno. Una nuova campagna su larga scala in tutto il paese è prevista per il 20 marzo. A Mariupol il presidente della Repubblica di Donetsk, Denis Pushilin, ha consegnato le chiavi ai nuovi residenti. Le persone rimaste senza casa durante i combattimenti a Mariupol si sono trasferiti in appartamenti confortevoli e appena completati.